Benvenuti! Nel video di oggi parleremo di Giulio Raselli e le sue pesanti accuse nei confronti di Davide Donadei e Chiara Rabbi. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. Un clamoroso scoop ha scosso il mondo di uomini e donne, questa volta grazie alle rivelazioni di Giulio Raselli, extronista del programma. Attraverso le sue Instagram Stories, Giulio ha condiviso una notizia sconvolgente riguardante l'ex coppia Davide Donadei e Chiara Rabbi. Secondo quanto riportato da Giulio, sembra che tra i due si stia verificando un riavvicinamento, ma con conseguenze preoccupanti. L'extronista sostiene che Davide stia esercitando una forte pressione psicologica sulla sua ex fidanzata. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Giulio Raselli ha raccontato ai suoi follower tutti i particolari dell'accaduto. Ragazzi, devo proteggermi. Chiara geme, come Chiara Rabbi si fa chiamare su Instagram, e Davide Donadei si sono chiusi in una camera d'albergo, non si sa con precisione dove, in un delirio di coppia. Cosa sta succedendo? Ho l'impressione che Davide stia mettendo una forte pressione psicologica su Chiara, cosa che lei non merita. La preoccupazione di Giulio è nata a seguito di un messaggio vocale ricevuto su WhatsApp da parte di Chiara Rabbi. In questo messaggio vocale si sente Chiara che mi chiede alcune cose, rivela l'extronista, e si sente anche la voce di Davide Donadei in sottofondo, che guida la conversazione. Giulio non si è limitato ad accusare Davide Donadei, ma ha sollevato un'allarmante ipotesi. Credo che questa situazione possa degenerare in qualcosa di ancora peggiore. Purtroppo, è una di quelle situazioni spiacevoli che molte donne hanno purtroppo sperimentato. Proprio per questo motivo, vi farò ascoltare l'audio di Chiara in cui mi spiega che Davide non è d'accordo sul fatto che in passato lei mi abbia chiesto il numero di telefono per contattarmi su WhatsApp. L'extronista ha quindi reso pubblico il messaggio vocale di Chiara, in cui lei afferma chiaramente, Davide ha letto le nostre conversazioni su Instagram e sostiene che io ho cercato di approcciarmi a te perché ti ho chiesto il numero di telefono. Se vuoi, chiamami o mandami degli screenshot delle nostre conversazioni su WhatsApp. Mi auguro che la famiglia di Chiara sia a conoscenza di questa situazione che mi preoccupa molto, ha concluso Giulio Raselli, evidenziando la sua inquietudine riguardo alla situazione in corso. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti gli ultimi gossip. A presto!